Ie, secundum scrittura, et ascendid in cerum, sedet ad esteram pati, e diterum venturus estum gloria, iudicare vivos e mortuos, cuius regni non er infinit, et in spiritum santum dominum, et vivificante, qui es padre e figlio que procei, qui con padre e figlio simuladoratum, et con glorificatum, rilocutus ester profeta, e dunam santa catolica, et apostolicam ecclesia, confiteorum un batisma, irremissionen peccatorum, et estetum, resurrezionem mortuorum, bendita mentori securi, Grazie a tutti 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 Salve Grazie a tutti 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 conventi Grazie a tutti 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 Grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti